Realtù è vivo, è reale Catania. Se aveva una battaglia, quando non c'era più niente di fare e si spezzò pure la spada, San Michele arrivò su carico con le spade subito. E mentre stavano chiamando un paradiso, Realtù vittà l'Etna. E dicevo Michele, fai a te, voglio vedere chi c'è da sotto. Esce un nuovo vulcano, vuol dire la lava e la cusse fuori che ci ha messo la spada dentro e anche due arriere, si sono tutta. Però si sa questo domicilio nel tuo vulcano. La mattinata se lo spieghiò, mi sapevo la texia del vulcano e vitte tutta la bella vallata di Catania. La montagna una banno, ma la Laura ci dice Dio, per piacere non mi può fare muore di muore. Io qui a campare, qui ho medesine e cane. Dio giustamente era un Re, quindi ci dice, vabbè non ti preoccupare, ti faccio vivere da. E si dice che se costrui un calcio e due, si ammucciata a qualche bannare il tuo vulcano, poi se ne esce solo ogni tanto, si va a mangiare la cipollina.